Torna il Festival delle Mongolfiere, manifestazione organizzata a Capaccio Pestum dall'Associazione Vivere Pestum, giunta alla decima edizione che ogni anno attira migliaia di visitatori, attratti sia dalla possibilità di volo che dal desiderio di partecipare alle numerose attività collaterali. L'evento, che si terrà dal 29 settembre al 7 ottobre, comincerà sabato alle ore 11 con l'apertura dell'area villaggio.